Io volevo salutarvi prima di tutto, avevamo previsto nella sala, siete tanti e vi ringrazio di essere qui prima di tutto. Questa è la mia prima giornata al Ministero come Ministro, sono venuto qui sabato per cominciare a stare almeno in ufficio e capire un po' quello che volevamo fare oggi e ci tenevo prima di tutto a dirvi che sarà un piacere lavorare tutti quanti insieme. Io mi illudo, magari è una sana illusione di potervi conoscere un po' alla volta tutti quanti. La cortesia quindi che vi chiedo è quando ci incontriamo anche nei corridoi, fermatemi e magari presentatevi perché poi ho un'ottima memoria fotografica, ve lo posso assicurare su questo. E mi ricordate anche che vi hanno tolto la mensa, me lo ricordate così magari ci mettiamo all'opera e vediamo di rimettere a posto un po' di cose qui dentro. Ma non è questo il punto, il punto è quello che ci aspetta poi nei prossimi mesi. Ci sono tante aspettative verso questo Governo, è stato un lungo, lungo parto che poi è arrivato e dopo 85 giorni finalmente si parte, domani e dopodomani ci saranno le votazioni sulla fiducia in Parlamento e poi mettiamo in moto la macchina a pieno regime. Io questo Ministero l'ho conosciuto per varie ragioni, perché mi sono occupato da parlamentare di opposizione di tante questioni, ne conosco la potenzialità e conosco anche la professionalità di tutti coloro che ci lavorano, anche perché colui che era il mio caposegretario quando ero Vice Presidente della Camera è un vostro collega e mi ha sempre parlato, anzi ha sempre enfatizzato questo Ministero, quindi ho tante aspettative verso questo Ministero, delle cose che si possono fare e con cui possiamo cambiare il Paese. Sicuramente non sarà semplice, non faccio Alice nel Paese delle meraviglie, so quante difficoltà ci sono per riuscire ad affrontare i singoli dossier che abbiamo, ma l'incontro di oggi era per dire mettiamoci in cammino tutti quanti insieme, io sarò a vostra disposizione e spero di poter prendere parte insieme a voi a un percorso di cambiamento del Paese che riguarda le imprese, l'energia, le telecomunicazioni, tutti i grandi dossier che abbiamo qui, c'è tanta sofferenza nel Paese anche legata a tante crisi industriali che gestiamo qui, a tante zone del Paese da riconvertire, da riabilitare, da rilanciare e so che io al massimo posso essere il terminale di un lavoro che fate voi, quindi sarà molto importante valorizzarlo il più possibile, richiamatemi quando non lo farò e ditemi che magari sto facendo male in alcuni casi, io ho sempre preferito ricevere dei no da chi lavorava con me che sempre dei sì e la tentazione di ricevere sempre dei sì l'abbiamo tutti perché poi siamo esseri umani, inoltre come saprete non mi bastava il mise nelle complicazioni, quindi io sono ministro dello sviluppo economico e anche del lavoro e delle politiche sociali, se ci sarà una fusione lo vedremo, io voglio parlare con tutte le direzioni, con voi, voglio capire se questi due ministeri vanno fusi o vanno gestiti politicamente insieme, io ho una profonda convinzione che unire la parte datoriale, la parte dipendente in questo Paese può anche creare più pace sociale, ma non unire dal punto di vista amministrativo, ripeto questo lo vedremo, ma dal punto di vista politico sì, perché siamo in una fase dell'Italia in cui molto spesso colui che è il datore è anche un po' dipendente perché ci lavora dentro alla realtà imprenditoriale e colui che è dipendente si sente o si dovrà sentire anche un po' imprenditore spingere lo sviluppo economico del Paese dalla sua posizione sentendo l'azienda anche un po' sua. È una sfida che ho accolto e che fa parte anche dell'identità della forza politica che rappresento e che quindi ha sempre lavorato sia sulla parte dei diritti di chi lavorava ma anche dei diritti di chi dava lavoro, oltre a tutti i grandi dossier che riguardano le aziende di Stato, che riguardano le telecomunicazioni, che riguardano l'energia, qui possiamo compiere una piccola rivoluzione dal punto di vista dell'economia sostenibile, dell'economia circolare, della green economy. Io non credo che si potrà fare tutto, 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 ma tanto sì e questo dipenderà anche da voi. Sono sinceramente rincuorato dalle vostre professionalità e con tutti quelli con cui ho avuto a che fare da parlamentare dell'opposizione negli ultimi cinque anni ho sempre avuto a che fare con persone disponibili che hanno sempre collaborato nonostante non fossi in maggioranza e non avessi neanche i numeri in Parlamento per poter incidere sui processi normativi. Sono contento di venire qui anche perché quando ho lavorato con voi siete sempre state delle persone cortese e umane e le persone cortese e umane cambieranno il mondo secondo me. Se metteremo umanità in quello che faremo nei prossimi anni sicuramente cambieremo tante cose perché poi dall'umanità deriva il buonsenso e quindi dal buonsenso derivano le scelte migliori. Non voglio assolutamente appesantirvi con un sermone, mi dispiace anche per questa posizione ma non ci andavamo tutti quanti lì dentro. Voglio soltanto dirvi che c'è tanto entusiasmo da parte mia, da parte di coloro che lavoreranno con me a stretto contatto e spero di potervelo trasmettere in maniera sana, non con degli obiettivi di parte ma con degli obiettivi per l'Italia perché questo è uno di quei ministeri che può veramente cambiare l'Italia e quindi se l'Italia diventa un esempio nel mondo possiamo anche influenzare tanti processi. Ci credo tantissimo e volevo cominciare da qui. Ho fatto due cose oggi, ho aperto i due ministeri a due categorie vessate negli ultimi anni che sono i giovani super precari, i cosiddetti riders che portano le pietanze a casa lavorando con un'application e i piccoli imprenditori della Brianza in questo caso ma ce ne sono in tutto il paese. Poi l'altro atto che volevo fare era salutare voi e presentare voi al resto d'Italia perché qui c'è la diretta sui nostri canali che sta facendo conoscere coloro che mandano avanti anche il paese che sono i dipendenti di un ministero e i dipendenti delle varie direzioni che lavorano a tanti problemi che anche in queste ore si stanno affrontando nonostante io mi sia insediato adesso. La direzione politica si è insediata adesso ma il filo, la continuità delle politiche o l'eventuale discontinuità la decidiamo insieme a voi che ogni giorno venite qui e lavorate. Io vi ringrazio e se ci sono delle domande sono a vostra disposizione per le risposte. Grazie mille. Se ce ne sono vi rispondo volentieri, ho un altro circa dieci minuti e poi vado a salutare i vostri colleghi. Adesso andiamo di là e ci mettiamo al lavoro di là. Ha detto quota cento le pensioni. Grazie a tutti allora. Grazie mille. Arrivederci. Grazie mille.